assaggiare manda ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente dopo tanto tempo a stare attendendo da tempo quanti tempi ci ho messo comunque faremo la kiss challenge io non so Carmine cosa ha preso nel carneta cosa io ho preso quindi da questo momento io lo appendo lo affogo e iniziamo inizio con questa adesso ve lo vedete lo scriverò ovviamente me la mette da me cos'è? ma ci ho miscato con cosa è filadelfia non senti ne dentro filadelfia è qualche cosa tosto dentro pepe che? bravissimo ho indovinato filadelfia con pepe minuto minuto non c'è no mi ma schifo bro e che cosa è? ma si mangia sai? ancora ma che ti vediamo non ce l'ho? no no ma che cazzo è roba fare gli stufolini no non lo so fai schifo e mi devi dire cos'è è maionese con cioccolata fai schifo ma come posso indovinare? ragazzi cari nella seconda cosa non ha indovinato perchè ho mischiato la maionese con cioccolata andiamo con la terza e l'ultima cosa andiamo con la terza e l'ultima cosa guarda il biscotto assaggia cioccolata? guarda un po' ma mangia un tronchi nooo assaggia un po' quindi è buono non dire tutta la calza non dire tutta la calza salta tronchi ma che dè? no 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 perdi eh fai schifo rossi non vale ragazzi perchè ha mischiato cioccolata e meionese non vale come cazzo faccio ad adovinare cioccolata e meionese insieme ok io lo fai salta i tronchi vedi 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 Sara volevo il pazzo detto comunque è salsa cos'è? salsa che tipo di salsa Sara? pomodoro pomodoro quale? la macca? il ragù non hai indovinato Sara? il ragù delle corvette non hai detto il tipo di salsa vedi come ha fatto lei ma che è che non è così? mangia 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 ma che cosa è? mangia 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 cosa è? Sara cosa è? cos'è? ma si la testa che a me mi piace andovinata non sei mangia forse C'è quello che si fa? La febbre Ma che... Ma che cosa? Posso togliere? No, è... Ah! Ah! Abbiamo preso i pali! Abbiamo preso i zappiutoli con seo! Non so più che mi hanno fatto con seo con la salsa quantina! Ma perché? Ti prenderò che era la ricotta! Aspetta! Da mangiare! Vieni! Ok! Il pane è grattugiato! Eh, faccimi il cotoletto! Perché è graffioso! È graffioso! Essaggiare! Mangia! Cos'è? Ma me l'hai sputato in bocca! Vai, non mi ne... Cos'è? È Nesquik! Ah, mamma mia, basta, aspetta! Questa tortura finisce qui! È finita qua, ragazzi, è finita qua perché... Perché assolutamente il vomitavo, perché mi gira lo stomaco, c'è ancora il sapore della Philadelphia, nonostante mi ha fatto assaggiare Nesquik! Tra poco... Beh, prendi la lingua... Ce l'hai un po' conia! Questo video termina qui! Se vi è piaciuto lasciate un bel like, se non vi è piaciuto... Lasciate uno stesso! Lasciateci anche un bel commento, diteci cosa vi è piaciuto, la parte che magari vi ha fatto ridere di più, se non vi ha fatto ridere proprio fateci sapere! Se soprattutto vi ha fatto girare lo stolo, siete d'accordo con me! Poi, consigliateci un'altra challenge, visto che continueremo a fare altre challenge, da chi se l'abbiamo fatta, adesso diteci per cosa dobbiamo fare! Lasciamoli e basta ragazzi, basta un bacio a voi e uno a noi!